Ciao a tutti ragazzi con il vostro Arcade Parla, sapete quanto adoro dare un'occhiata al codice di gioco di tutti quanti i Black Ops per vedere tutto quanto quello che su zombie poteva essere, quello che è stato cambiato, quello che era un pochino programmato e generalmente appunto vedere tutto quello che possiamo capire un attimo dal codice del gioco che è molto spesso tutto quanto è criptato quindi è difficile recuperare tutto quanto ma durante gli anni abbiamo visto tantissime cose di Black Ops 1, di Black Ops 2 e tutti quanti i contenuti tagliati di cui ho fatto tantissimi video tutti quanti uscire fuori per come sempre una bella discussione e immaginare come sarebbe stato un Black Ops e uno zombie precedente a riguardo qualche matto ha preso mano il codice di Black Ops 4 che abbiamo già analizzato in passato per alcune cose ed è riuscito in qualche modo a fare il decompile quindi dare un'occhiata per bene a tutto quanto il codice e vedere per bene le righe per analizzare ogni singola cosa ovviamente ricollegata a zombie questo ha consentito nell'ultima settimana di scoprire alcuni easter egg ancora nascosti e altre modalità non inserite nel gioco ma che appunto erano in parte programmate di altre cose forse ne parleremo nei prossimi giorni o settimane specialmente alcuni easter egg di recente scoperti la cosa interessante di cui voglio discutere oggi è dolore tante volte abbiamo parlato di dolore su Black Ops 4, su Cold War e tante altre cose del genere perché come sempre c'è l'idea e la speranza del ritorno di questa modalità quasi competitiva presente in Black Ops 2 che permetteva a 8 giocatori 4v4 di giocare e sfidarci per avere un PvPVE per cui qualcosa che possa in qualche modo unire il PvP anche a malità zombie stessa che invece è PvE e appunto rendere competitive le nostre partite giocare con amici e divertirsi un pochino o appunto sfidarsi con altre squadre che devono mettere su Black Ops 2 per quanto non fossi un grandissimo appassionato di dolore era qualcosa secondo me di molto molto importante che ha dovuto in vita al gioco per tanto tempo poi in generale Black Ops 2 è forse il codolo zombie con più modalità in assoluto e potendo quindi finalmente dare un'occhiata a questo codice nella sua interezza possiamo vedere tranquillamente che c'è appunto la modalità zombie Z-Griff quindi modalità zombie dolore presente proprio nel codice e teoricamente programmata per il futuro Black Ops 4 sappiamo che l'appi c'è proprio il massimo per quanto riguarda modalità e contenuti tagliati e non soltanto dolore ma anche il ricettario di Newton che era di Black Ops 3 sarebbe arrivato su Black Ops 4 le custom limitations ufficiali della Treyarch, le fazioni, altre sfide, altre mappe, altri contenuti tantissime cose completamente tagliate e come sempre il codice nella piena dimostrazione altra cosa interessante è che teoricamente il codice di Black Ops 4 è stato copia e incollato su Cold War infatti ci sono alcuni rimazzugli dei codici di Black Ops 4 proprio su Cold War e alcune immagini o pezzi del gioco sono appunto rimaste le stesse questo permetterebbe a Treyarch di ripescare un pochino queste modalità non completate o programmate per Black Ops 4 e finalmente utilizzarle invece per Cold War ne parla è già in passato diversi mesi se non anni fa ma anche su Reddit di recente si era accesa la discussione per quelle che sono le custom mutations ufficiali che c'è un'immagine addirittura di Black Ops 4 si capisce che il codice è lo stesso un'immagine di primis su Blood e teoricamente appunto questa modalità che deve arrivare su Black Ops 4 e permettere di sfruttare per bene le mutazioni personalizzate per un attimino fare veramente quello che volevamo o appunto utilizzarle in maniera ufficiale da Treyarch per creare le modalità apposite da poter essere giocate per sbloccare comunque sfide, fare XP e non soltanto lo zombie classico e standard per quanto sicuramente per le custom mutations ufficiali, le fazioni e tanto altro lo sapessimo fin da sempre da anni a questa parte vedere per bene nel codice del gioco che appunto era programmato Dolore e tante altre cose del genere ci dà come sempre altre conferme conferme di quello che Treyarch sicuramente voleva fare e o non ha potuto fare per budget per tempistiche perché non funzionava o tanti altri problemi che non sapremo praticamente mai possiamo come sempre soltanto sperare che il futuro, che sia Cold War o un altro capitolo possa finalmente presentare tante modalità come era anche su Black Ops 2 tanti magari discutono che Black Ops 4 o Cold War non siano adatti per presentare un 4v4 magari per la grandezza delle mappe, per la loro complessità o non soltanto il divertimento e lo stile di gameplay che invece era quello classico, magari di un Black Ops 2 e appunto funzionava proprio perché era qualcosa come Black Ops 2 secondo me Black Ops 4 con Alpha Omega l'introduzione più che altro dei 4 personaggi sia Primis che Ultimis era perfetta per dare un senso anche alla storia e non soltanto appunto mettere CDC e CIA che erano personaggi un pochino anonimi per quanto comunque molto divertenti da utilizzare e forse era divertente anche di Dolore non esserci per dire una storia ma soltanto in gameplay molto importante ricollegato poi alle mappe supervivenza e poi in seguito per dire anche a Baried poi l'introduzione magari di altre modalità come trasformato o cose del genere ma mi sto un pochino lasciando a trascinare dal discorso per quanto riguarda Dolore stesso io ripeto non sono un grandissimo fan non ci ho giocato così tanto ma conosco persone che ci hanno giocato per anni e anni a non finire quasi tutti i giorni e sicuramente sarebbero molto contenti o la maggior parte della community sarebbe molto contenta di finalmente poter rivedere questa modalità per accendere la parte competitiva di Zombie e avere qualcosa un pochino in più da fare abbiamo visto l'introduzione di carneficina su PS4 per Cold War di Epidemia altre modalità che vengano supportate come sempre in parte secondaria e che non sia la concentrazione principale farebbero molto comodo il gioco mi sembra di fare un flashback di qualche anno indietro perché mi ricordo quando le discussioni di Black Ops 4 erano praticamente odierne ho fatto tantissimi video in cui appunto ne discutevo ma come sempre Dolore è uscito fuori per tante cose e tante persone hanno discusso praticamente da Black Ops 2 in poi per come sempre fare il ritorno di queste modalità perché quelli che sono in realtà i grandi classici secondo me possono ancora funzionare bisogna stare attenti magari alle mappe alla costruzione della storia, del gameplay e tante altre meccaniche del genere per cui se magari Cold War dove per dire non ci si può saltare in testa per uccidersi non ci sono le AMP o cose del genere che rendevano Dolore molto divertente anche in parte difficile perché la competitività era molto molto accesa proprio alcuni sistemi del gioco andrebbero creati apposta per queste modalità quindi speriamo che in futuro possa succedere qualcosa del genere voglio sapere quindi ragazzi le vostre opinioni se voi sarei stati contenti di un dolore su Black Ops 4 che etnicamente era programmato lo preferireste su Cold War o su un code zombie successivo magari un pochino meglio costruito per qualcosa di un pochino più competitivo con mappe più piccole e quasi sopravvivenza e appunto altri oggetti come un AMP, un saltarsi in testa altre cose del genere che appunto permettano di giocare molto meglio e offrono una variante competitiva oltre soltanto che cercare di dar fastidio ad altri player che non sempre funziona al 100% sia per divertimento sia funzionale per pochino battere l'altra squadra il video quindi si conclude qui, spero come sempre che vi sia piaciuto i post riguardanti a questo argomento sono come sempre qui sotto in descrizione se volete ci sono anche i link per i miei social che vi da seguire tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord noi ci vediamo come sempre a un prossimo video un abbraccio, ala